E' la Valdichio la vittima principale dell'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito la valdichiana retina estienese, una pioggia intensa e violenta concentrata su una superficie estremamente ristretta. Sotto stress il reticolo minore sorvegliato dai tecnici del consortio di Bonifica 2 Alto Valdarno. L'attenzione si è concentrata soprattutto sul territorio di Castiglion Fiorentino dove le maggiori criticità si sono riscontrate sul torrente Vingone e sui suoi affluenti. Abbiamo vissuto momenti di grande timore, ammette il direttore generale Francesco Lisi, siamo impegnati a verificare la tenuta delle opere idrauliche e a individuare le criticità su cui intervenire. Ancora una volta siamo costretti a fare i conti su precipitazioni che presentano caratteristiche molto diverse rispetto al passato, commenta la presidente Serena Stefani che continua a seguire l'evolversi della situazione.